Posso eseguire questo stesso esercizio sulla panchetta 60 gradi e l'esercizio verrà eseguito in questo modo. Mi appoggio sulla panchetta e fletto il gomito. Negli esercizi eseguiti sulla panchetta ma anche in stazione retta dovete evitare dei movimenti troppo veloci di discesa e di cheating. Movimenti di cheating sono quei movimenti barati che vi permettono di eseguire più facilmente i movimenti. Il movimento tipico di cheating del carl eseguito sulla panchetta potrebbe essere questo. Qualora il vostro carl assomigliasse a questo vi consiglio di abbassare decisamente il carico perché eseguirlo in questo modo è scorretto e a lungo andare potrebbe portarvi a infiammazioni dei tendini dei bicipiti. Quindi abbassate il carico. Grazie a tutti.